Il biglietto da visita diventa digitale. Basta infatti avvicinare B1Card al telefono per trasferire attraverso la tecnologia NFC i contatti direttamente al telefono. Con un'unica card è possibile gestire diversi business evitando di avere tanti biglietti da visita. Attraverso un'app dedicata è sempre possibile aggiornare i propri dati, scegliendo quali condividere e monitorando le attività. Attraverso l'app è anche possibile utilizzare la card in formato virtuale. Tra le diverse funzioni di configurazione, oltre al formato vCard, posso utilizzare B1 nella versione Linktree personalizzando una landing page dedicata oppure utilizzarla in modalità leads per creare forum di contatto o semplicemente condividere dei link come cataloghi ed inviti. Il tutto senza sprecare un solo grammo di carta. Attraverso questo innovativo progetto abbiamo dato vita alla collaborazione con Tridom creando così la prima foresta peniferina segno. Grazie. Grazie.